ciao amici questo video è dedicato a tutti i golosi di pizza che vogliono dimagrire senza rinunciare al loro piatto preferito eccone uno allora sarà felice e se siete felici anche voi mettete un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video il concetto è semplice la pizza se di buona qualità può essere un cibo sano quindi se si mantengono le calorie sotto controllo nulla vieta di dimagrire mangiando pizza questa è la premessa della dieta della pizza secondo la ricerca che l'ha creata ma come si fa una pizza sana scopriamolo insieme per prima cosa l'impasto dovrebbe essere di farina integrale o semi integrale per avere un corretto apporto di fibre bene anche farina di kamut dovrebbe contenere antiossidanti e qui ci aiuta il pomodoro ricco di licopene non devono mancare grassi buoni ad esempio l'olio extravergine di oliva olive capperi noci pinoli e vitamine e minerali data dalla verdura come rucola zucchine melanzane funghi carciofi e la mia adorata scamorza ma stiamo parlando di dimagrire no se volete una pizza light e dimagrante meglio fare a meno del formaggio e della mozzarella e anche evitare salumi salsiccia e wurstel alla larga anche da fritti e dagli abbinamenti troppo complicati per le proteine bene legumi tonno acciughe uova per chi non è vegano potete anche acquistare una base per pizza e fare le vostre creazioni light a casa che bella idea scrivetevi le vostre ricettine di pizza sana secondo questa dieta la pizza si può mangiare a scelta a pranzo o a cena e nell'altro pasto si consumano proteine magre con verdure cotte e crude il tutto condito da una sana attività sportiva regolare regolandosi in base al proprio fabbisogno calorico è possibile perdere fino a un chilo a settimana per vedere altri video e dimagrire mangiando iscrivetevi al canale è facile con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando la campanella delle notifiche qui sotto ma se youtube non vi avvisa andate nella home del canale perché pubblico ogni giorno mangia sano e dimagrisci